A me lui piace tanto a livello estetico, moltissimo. Non riesco a lasciarmi andare con lui. C'è qualcosa che non torna, però, credimi. Cioè, incomincia a diventare sospetto questo tuo comportamento, perché è impossibile. Io capisco le sue perplessità, eh. Ma no, allora, fosse accaduto solo con te, io posso anche capire, no? No, dice, sai, mi piace esteticamente, però è sempre saggiostra. Cioè, mi piace, sono attratta, però c'è qualcosa che mi blocca. Ma scusatina. Ti bloccherà un uomo fuori? No, non mi blocca nessun uomo fuori. Eh, mi sa di sì, perché non c'è altra spiegazione. No, le persone vanno conosciute, giusto? Ho capito. A me esteticamente piace molto e io ci voglio provare. Voglio cercare di capire se, a livello emozionale, caratteriale, fuori da qui, potremmo viaggiare sulla stessa... Ma nessuno lo può decidere, questo lo può dire. Ma io voglio... Perché significa? Cioè, come pensi di conoscerlo se dopo tre giorni li scarichi? Ma veramente non è dopo tre giorni, Tina. Vabbè, tre giorni per modo di dire, però comunque... Ma Tina, delle emozioni ci va... Le tue coscienze hanno una breve durata, non hanno mai avuto poi un esito positivo. Sempre finite con un esito negativo. Grazie a tutti.